Un angolo di oriente a Torricella del Pizzo, un atelier, un laboratorio per illustrare la millenaria tecnica Raku proveniente dal Giappone a chiunque voglia approcciarsi con la stessa in un paesino di meno di mille abitanti. Magia della cultura, anzi molto più semplicemente concretezza di un accordo tra l'artista svizzera Cristina Mazzotti e l'agriturismo Torretta che ospita il museo Amarcord, il museo di scienze naturali, risultando un vero e proprio riferimento per il comune Casalasco. Cristina Mazzotti è ripartita assieme al marito Bruno per la Svizzera, dove vive tra Basilea e Zurigo giovedì mattina. Noi l'abbiamo incontrata poche ore prima del suo ritorno a casa per ammirarne le opere e conoscerne i progetti. Anzitutto svegliamo subito l'arcano. Cristina, che fa parte del gruppo di artiste Gamey, tutto al femminile, con all'attivo mostra anche a livello mondiale, l'ultima due anni fa sul lago di Costanza, ha radici torricellesi, dato che i suoi nonni e bisnonni sono vissuti qui. Poi, come spesso è accaduto, per questo comune che ha record di appartenenti all'Aira nel Casalasco, gli italiani residenti all'estero, giusto per citare un dato statistico, la vita ha portato la famiglia Mazzotti altrove. Ora però, da marzo 2018, Cristina e Bruno torneranno e si stabiliranno a Torricella. Per questo la famiglia Fadani, che gestisce l'agriturismo, sta approntando una stanza atelier dove Cristina potrà insegnare la tecnica Raku, particolarissima ceramica giapponese ottenuta dalla lavorazione dell'argilla che, dopo due o tre settimane di lavorazione, viene cotta lentamente per 7-8 ore in un forno elettrico a 850 gradi, smaltata con apposite sostanze e, infine, inserita in un bruciatore a gas dove a mille gradi cenere, carta e fuoco regalano alle sculture colori particolarissimi e unici che cambiano addirittura nel tempo e a seconda della luce. Le caratteristiche crepe sono invece figlie dello sbalto termico, dato che la scultura, dopo i mille gradi di cottura, finisce in acqua. Il marito Bruno aiuta Cristina nell'estrazione delle sculture proprio dal bruciatore, ultima fase, perché spesso si tratta anche di pezzi pesanti e di certo incandescenti da prelevare con un'apposita pinza di un metro. Cristina ha conosciuto la tecnica Raku vent'anni fa, voleva modellare l'argilla ma non in modo banale, così si è ispirata all'Oriente. Del resto in Cina, nel 2000, a Shanghai per la precisione, realizzò una mostra di quadri che riprendevano anche gli ideogrammi, alfabeto di quella cultura, e che fece il sold out. Tutte le opere vennero acquistate. Lì Cristina imparò anche la lingua cinese. L'arte e la sete di conoscenza sono sempre state nel suo DNA. La prima mostra risale al 1991 nella sua Svizzera, così come non si è mai scordata le sue origini casalasche. La riprova, da marzo, come detto, verrà a vivere proprio a Torricella, non appena il marito, d'accordissimo con questa idea, sarà in pensione. Ma già nel gennaio scorso, durante l'ultima festa del Pipen, il piedino di Maiale Lessato, Cristina ha realizzato proprio un Pipen Raku, il primo della storia. Quando l'Oriente incontra la bassa, possono uscire questi capolavori.